Volete veramente vedere come funziona questo gioco? Ora ve lo faccio vedere io Questo si chiama Ragdoll Simulator Clinic Qualcosa del genere Dobbiamo praticamente buttarlo via fuori Dalla finestra Il nostro praticamente Dottore in qualche modo Dobbiamo togliere queste tonsille Per praticamente Farlo andare via Perché posso usare anche una carota? Vabbè non importa Dobbiamo provare a toglierle Che schifo ragazzi Sembrano pezzi di formaggio Mamma mia Questo è veramente No Che è successo? Devo farlo più velocemente Non capisco Vabbè comunque 594 di soldi Buono 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 Ok posso ancora giocarci Quindi adesso Devo provare a toglierle velocemente Così che posso guadagnare un po' più soldi E niente il tempo è scaduto E quindi Dato che il tempo è scaduto Sapete cosa significa questo? Che possiamo aumentare i nostri parametri E credo che posso mettere Il bonus non capisco cosa possa servire Però aumentiamo tutti Tutti questi Ok Devo stare attento perché Se clicco l'altra volta Mi manda la pubblicità Io non voglio vedere la pubblicità Questa volta deve essere veloce Cioè io ci riesco ragazzi Io sono Io sono fast Io sono fast Io sono fast Non sono più fast Non sono più fast Oddio 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 Mamma mia ci stavo riuscendo Devo toglierle tutte Mamma mia E poi pure soddisfacente questo gioco Stranamente Comunque Andiamo avanti Ho 3500 Ma abbiamo un sacco di cose Potenziamo tutto Il turbo Tutto quanto Perché il turbo Praticamente è la calciata davanti Nei denti Bene E Boom Mamma mia Oddio Devo beccare il Devo beccarlo Devo beccarlo L'ho beccato L'ho beccato L'ho beccato Questo Questo sì che è proprio Minare nei denti Cacchio Andiamo avanti Ok Proviamo a fare qualcos'altro Ok No Adesso dobbiamo praticamente Fare i tatuaggi Oddio L'abbiamo fatto volare Poverino Ok 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 Quindi dobbiamo chiccare Dobbiamo dare un pugno ai denti A chi ci fa i tatuaggi Poveri Comunque tutti questi Che fanno sti lavori E si ritrovano sta persona Che gli do un pugno davanti La bocca Però va bene Cosa Cosa devo fare qua Devo Devo Ah devo togliere gli tatuaggi Prima che il tempo scade Oddio ci riesco Oddio ci riesco No Pezzettino minuscolo Non ci voglio credere 6 6 6 6 6 6 6 Ok perfetto 8000 monete Raga 21000 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Tutto 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 Ok basta Ok Ok Ora Questa volta ci riesco per forza Ragazzi Questa volta ci riesco per forza Per forza Per forza Sì Ciao Ci sono riuscito Ci sono riuscito Ok Oddio Oddio 17 Peccato Potevo prendermi 21000 Mamma mia Raga Questo quello lo spediamo su Marte Adesso Lo spediamo su Marte Assolutamente Ok ci siamo 3 2 1 Oh Oh Ci sono riuscito Ci sono riuscito Alla seconda ci sono riuscito Top Perfetto Ci siamo Raccogli 14 Buono 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 Oh mio Dio Dove siamo Siamo in un'ambulanza Davvero Oddio Voglio provarlo assolutamente Ok ci siamo Tocca per iniziare Ok Boom Cosa La sua anima mi ha dato un colpo What E anche il bersaglio sta anche in una macchina in corsa Ma è impossibile Che casino però che sta accadendo qua con le macchine C'è vero che ho buttato una persona da un'ambulanza Ma mai esageriamo E poi perché non le tengono chiuse le porte Però va bene Oddio Ok devo sbloccare questo assolutamente Oh mio Dio Che cavolo devo fare qua Perché c'è pure una Un cetriolo che posso usare No La pubblicità serve Sto seriamente usando un cetriolo Per Cosa che sto facendo Cosa sta accadendo Oddio tutti 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 Mi sono riuscito Mi sono riuscito alla prima Oh mio Dio Oh no 20.000 40.000 Tutto Mamma mia Mamma mia Questo gioco poi diventa una dipendenza Ragazzi ve lo giuro Ok andiamo avanti Pronti Oh lo becchiamo L'abbiamo beccato L'abbiamo beccato In due secondi l'abbiamo beccato Mamma mia Ok Voglio vedere cosa accade 22.000 Oh no Cosa accade qua Cosa sta accadendo Uno scivolo Giusto giusto Dove mettere uno scivolo Nella finestra Oddio Oh Attenzione No 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 Non è finita Dai ma come è finita Non era finita Mi prendi in giro Ok 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 Riproviamoci Ok 44.000 Devo spremere le brufoli Bene Bene Molto bene Prendiamo tutto quello che serve Ragazzi Ok Mamma mia Siamo veramente potenti 30 26 26 Siamo veramente potenti In questo momento Ok Proviamoci Allora Quindi Gli becco Questo Ok Oddio Che schifo Ok va bene Uso la mano E devo spremere le brufoli Oh Gesù Ma cosa c'è Dei vermi Dentro la faccia Oh Gesù Gesù Che schifo Che schifo 36 38.000 Porca miseria Ok certo che Di soldi Ne spreco un sacco Comunque Pian pienino Quindi è tutto proporzionale Però andiamo avanti Boom Oddio Oddio Se questa volta ci riesco Secondo me questa volta ci riesco Se la fa tutto Se lo fa tutto Se lo fa tutto Se lo fa tutto No Mannaggia Ma come fai È impossibile E perché adesso Aspetta no Forse mi sa che devo proprio calciarla Proprio per bene Che detta così Veramente è bruttissimo Però dobbiamo provarci Ok Va bene Non me ne importa Muori Eh però La potenza è sempre la stessa Se non l'aumento Anzi no Ok 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 Oh Ok Oddio Oh è diverso È diverso Non fermarti Non fermarti Non fermarti Non fermarti Non fermarti Non fermarti Oddio ce lo siamo fatti tutti Eh però è lì in fondo Non ce la facciamo Va bene 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 Ci riproviamo Ci riproviamo E questa volta ce lo facciamo Veramente bene Facciamo un bel 72.000 Cosa Parca miseria Sono tanti 117.000 Io ho già avrei smesso di lavorare Ok Perfetto Ci siamo Altri soldi Perfetto Ok ci siamo Poi ci spremiamo pure i brufoli Perché a noi Proprio Dobbiamo far tutto Noi eh Tutto Tutto Madonna Li stavo per far tutti Stavo trajardando Ok Adesso devo far Oh madonna 73.000 Siamo Boom Ok 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 no raga Lo becco Lo becco per forza Lo becco per forza Lo becco Lo becco Lo becco Lo becco Lo becco Mamma mia Sti giochi del cacchio Che divento forte pure Ok Oh no Cosa accade qua Secondo me Gli da un pugno Lo fa saltare in aria Secondo me Vogliamo provare Ah no Sempre di là Madonna Eppure Le esplosioni Adesso hanno messo Ok L'ho fatto cadere Come Spider-Man In ogni film Ovvero che Cade sempre nel parabrezza Ok proviamoci Ok 30.000 Quindi 80.000 Compriamo tutto E mettiamo fortissimo Lo bandiamo a fan bagno Dobbiamo provare pure il minigame Ovviamente Perché voglio vederli tutti io Ok Dovo Dovo mandarlo lì Ok È fattibile È fattibile È fattibile Si può fare Si può fare Ok comunque è inutile Veramente tutti i soldi Che mi da Cioè è davvero inutile Perché tanto li sblocco così Quindi è veramente inutile Però va bene Ci siamo Ok Ora sblocchiamo quello Ragazzi ci siamo Che cacchio devo fare Devo tagliarle il cuore Ah no Devo tagliarle Che cosa Un topo Una bomba Vabbè Ok 50.000 50.000 50.000 Boom 54.000 Mannaggia Quanto sono forte Ma do Però ragazzi Pago un sacco Adesso devo prendere il bonus Il bonus ne ho veramente poco Ora lo prendo il bonus Comunque Facciamo un'altra cosa Questa Oh Gesù Vedo un cellulare Che sta arrivando Una notifica Ragazzi Lo vedo È lì davanti Porca miseria Ok riproviamo Cioè Ok quindi qua Uno Un ratto Una bomba Un'anatra Un cellulare Dai voglio prendere il cellulare Uno shuriken Uno shuriken dei ninja Cosa Quanto Ma quindi ogni volta che lo faccio aumenta Fatemelo riprovare E divento anche più veloce mi sa Eh si divento assolutamente più veloce Mamma mia Mamma mia Oppure sono io veramente che sono diventato veloce e basta Probabile Un cellulare Dai stavo finendo Madonna l'ultimo mancava ragazzi L'ultimo Ora Ora veramente mi busto di soldi Riproviamoci Di nuovo Ok Ok Uno Ok ci siamo Bomba Ok Cacchio è qua Vedo una macchina pure Va bene Eh shuriken Ci sono riuscito comunque ancora Ancora mannaggia Non ci riesco Impossibile Devo farcela 92 272.000 Oh mio dio E ancora non ho capito No si è vero Funziona che deve buttarsi nella neve Ok va bene Mi pare di non averlo ancora visto Ragazzi ci dobbiamo riuscire questa volta Ci dobbiamo riuscire Ok via Via pure Ok 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 Vabbè Vabbè ci siamo Ci siamo Dai che palle Ma perché Ragazzi Li metto sempre bene Mamma mia Il bonus adesso No Perché non posso prendere il bonus Quanta roba 51 Parca miseria Madonna che il pugno Il pugno della di Hulk Parca miseria Io spero ovviamente Questo video vi sia riuscito È stato veramente Un gioco stranissimo Se me lo permettete E noi ci vediamo Un prossimo E' novissimo video Andate a vedere questi altri video Perché sono certo Che vi possono piacere E ci si becca Grazie a tutti